Per i 40 anni della scomparsa di Giorgio Lapira, gli studenti insieme ai docenti della scuola secondaria di primo grado Antonia More e in collaborazione con Canale 74, hanno realizzato un documentario dal titolo Il pesciolino rosso dell'acqua sentiera. Si tratta di un'occasione per ricordare, ma anche per far conoscere ai giovani, la figura di un grande uomo che dal piccolo paese di Pozzallo è riuscito a farsi strada durante un periodo difficile della storia d'Italia. Giorgio Lapira, definito sindaco santo, nacque all'inizio del Novecento da una famiglia povera, conseguì nel 1921 il diploma di regioneria e in seguito la maturità classica a Messina e nel 1926 la laurea in giurisprudenza a Firenze. L'anno dopo diventò professore supplente di diritto romano all'Università di Firenze e nel 1934 diventò docente ordinario. Fondò la messa di San Procolo per l'assistenza materiale e spirituale dei poveri. Diventò sindaco di Firenze nel 1951 e poi nel 1961. Spiritualmente Giorgio Lapira si formò all'interno dell'azione cattolica italiana, importante e anche legame con la spiritualità francescana, come testimoniano le sue molteplici visite a Laverna, ad Assisi. Nel 1959 fu il primo politico occidentale a superare la cortina di ferro, regandosi in Russia e creando un ponte di preghiera, unità e pace tra Oriente e Occidente. Scrisse numerose pubblicazioni e il suo motto era Spence contra Spam e lo ricordava ogni qualvolta era impegnato in un faticoso lavoro politico quotidiano. Morì nel 1977. Con questo progetto gli studenti hanno avuto modo di rivivere la vita del loro concittadino, un uomo che conciliò i suoi ideali cristiani con la politica concreta. Per tale motivo è stato considerato un democristiano atipico, definito un pesce rosso dell'acqua santiera. Da qui il titolo del documentario, già presentato in questi giorni presso lo spazio cultura a meno assenza.